Venerdì 15 dicembre nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesaro Urbino si sono ritrovati tutti i sindaci dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino. Attorno a un tavolo con il prefetto Emanuele Saveria Greco e il questore Raffaele Clemente per mettere la firma su un importante protocollo di sicurezza integrata che non ha precedenti in Italia. Si chiama Sofia ed è un patto che geolocalizzerà i sistemi di videosorveglianza di tutto il territorio in maniera integrata. Un nuovo passo avanti nella sicurezza del territorio proprio in vista dell'anno di Pesaro capitale della cultura 2024. È un patto unico in Italia, non ci sono altre province che hanno questo patto. Servirà a mappare su una piattaforma informatica tutti i sistemi di videosorveglianza e le strade, le zone in cui i sistemi si trovano. Quindi avremo conoscenza, il protocollo del sistema si chiama Sofia che è proprio Sapienza, quindi verremo a sapere esattamente la situazione della copertura dal punto di vista delle videocamere del nostro territorio. Questo è importante sotto diversi aspetti. Innanzitutto sicuramente sotto un aspetto di deterrenza perché avendo conoscenza immediata dell'esistenza delle telecamere su quelle data via, è chiaro che l'autore di un reato sarà immediatamente identificato dalle forze di polizia in quanto potranno da subito risalire al gestore che ha la proprietà dell'impianto di telecamere. Quindi conoscendo il gestore e intervenendo nell'immediatezza potranno acquisire poi successivamente le immagini importanti, rilevanti. Quindi per adesso si mappano i sistemi, non si ha un'acquisizione dell'immagine su questa piattaforma, no. Si avrà l'acquisizione soltanto della localizzazione degli impianti e dei gestori, dati che saranno a conoscenza delle forze di polizia per intervenire poi nel momento della commissione di un eventuale reato. È un sistema però che sarà presto allargato anche ai privati per avere proprio una conoscenza capillare della presenza delle videocamere sul territorio. Abbiamo fatto una scelta che serve ad avere un piano tattico della videosorveglianza, quindi in tempo reale sappiamo come, dove e quando ci sono. Ma soprattutto il nostro interesse è attraverso la cabina di regia di questo patto di conoscere personalmente chi gestisce le telecamere, aiutarlo, dargli consulenza, farlo partecipare in maniera attiva all'attività di sicurezza urbana. È evidente che solamente avere una visione complessiva ci consente di gestire in maniera industriale e integrata i sistemi di videosorveglianza e non ognuno per i fatti suoi. Ringrazio il Comune di Pesano perché il Comune di Pesano ha messo a disposizione questa piattaforma informatica, diciamo, molto potente, perché ovviamente immaginate la quantità di dati che vanno a essere immessi in questa piattaforma informatica. Quindi ringrazio il Sindaco Matteo Ricci, ma consentite un ringraziamento particolare a tutti i sindaci della provincia, perché hanno compreso l'utilità di questo strumento. Cioè hanno immediatamente capito che è uno strumento che va ad ingidere proprio sulla sicurezza, anche percepita, dai loro cittadini. Tutte le statistiche dimostrano che Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino, è una delle realtà in questo momento più sicure in Italia. Questo però non ci deve far abbassare la guardia perché abbiamo visto che i fenomeni di criminalità organizzata non hanno più confini. Anche il nostro territorio è stato colpito negli anni scorsi. Abbiamo un problema sicuramente legato al traffico di droga e in generale al mercato degli stupefacenti e comunque sia c'è una realtà che costantemente vede anche furti, furti negli appartamenti, fatti spesso e volentieri da bande predatorie. Quindi bisogna tenere la guardia molto alta e questo accordo consente di mettere a disposizione della prefettura, delle forze dell'ordine, tutta l'organizzazione che i comuni hanno a livello territoriale, a partire dai dati perché i dati saranno sempre più fondamentali nella gestione del territorio e anche nella gestione della sicurezza. In questi anni abbiamo fatto tanti investimenti, se penso alla nostra città, sulle telecamere, anche telecamere in grado di leggere le targhe e quindi questo è il contributo principale che possiamo dare alle forze dell'ordine che nel nostro territorio stanno facendo un lavoro straordinario.